L'attacca Bottoni In una ridente metropoli alle pendici del Monte Baxo era nata, per l'incuria dei suoi milioni di abitanti, affacendati in altro modo, una nuova attività di attaccaggio di bottoni da montarsi solo se forniti dai clienti, come precisava la scritta pubblicitaria. In una serata livida e scura, una bella ragazza si presentò in una attaccheria con in mano cinque bottoni ed uno sfavillante impermeabile rosso, per chiedere il loro attacco in sostituzione dei precedenti che non le piacevano. Il reggente del negozio le rilasciò, dopo aver incassato, una marchetta su cui era stampato. La presente ricevuta consente al possessore il ritiro di, e poi a mano, era indicato numero uno impermeabile, seminuovo, di colore rosso, più cinque bottoni dorati, in attacco. La ragazza mise frettolosamente la ricevuta nella borsa e, salutando rapidamente, si disperse nella notte. Fuori pioveva e nevicava insieme, tutto era bagnato e umido. La giovane, giunta nei pressi della sua casa, estrasse dalla borsa le chiavi e Fradi c'entrò, senza accorgersi che la ricevuta fuoriuscendo si era andata a depositare, per ora diciamo fortunatamente, in un luogo asciutto sotto la volta della posta campanello, concepita a suo tempo leggermente rialzata e riparata dalle interperie per consentire una calma apertura del portone, che si rinchiuse pesantemente alle sue spalle. In quella metropoli non si erano mai visti i foresteri, ma quella notte un viandante, passando di lì, fu colpito dal caldo e rassicurante colore giallo asciutto della ricevuta che spiccava nel bel mezzo di un mare d'acqua e di neve. La raccolse e la intascò senza fiatare. Dopo, in un'osteria in fondo alla strada, la guardò meglio e decise che sarebbe andato a ritirare l'oggetto. Intanto la giovane, accortasi di aver smarrito il titolo, si addormentò, ripromettendosi di andare nell'attaccheria di prima mattina. Il giorno seguente, all'apertura del negozio, c'era già una piccola fila. La ragazza era la seconda. Il primo era il viandante, con in pugno una ricevuta che esibì. Il regente del negozio, ritiratala, gli consegnò l'impermeabile rosso, facendogli notare la perfezione del suo lavoro, non senza una punta d'orgoglio. La ragazza intervenne dicendo, chiedo scusa, ma quell'impermeabile è mio, guardate, ed estrasse una cintura di identico colore che non aveva portato proprio per non perderla. Ieri sera pioveva e nevicava, la ricevuta mi deve essere caduta in terra mentre andavo a casa. Il viandante guardò il regente che cautamente proferì. Gentile signora, io non la conosco, mentre conosco bene la ricevuta da me emessa. Il qui presente la possiede, pertanto, è nel pieno diritto di pretendere da me la consegna dell'oggetto, come è scritto lì sopra. E poi, aggiunse il viandante, rivolgendosi ad entrambi, come è possibile che la ricevuta sia asciutta, per nulla sciupata o scolorita, se ieri sera pioveva e nevicava, se le fosse cadute in terra si sarebbe bagnata e sporcata, invece è perfetta, ed indicò il titolo. La ragazza, ancora bella, ma perplessa dalla convincente giustificazione del viandante, dubitò di se stessa. Ripresasi dallo sbarimento, estrasse alcune foto che la mostravano con testimoni mentre indossava quell'impermeabile rosso. Il viandante le prese, le osservò e freddo disse, questo non è certo l'unico impermeabile rosso del mondo, quello nella foto è un altro, guardi i bottoni sono diversi. E poi la mia cintura l'ho perduta ieri e se lei l'ha trovata dovrebbe darmela subito. La giovane allora, quasi convinta che l'impermeabile non fosse il suo, anche per via dell'acuta osservazione sui bottoni, chiese devotamente al reggente del negozio se esistesse l'opportunità di indossare l'impermeabile che le pareva della sua misura. Un poco come cenerentola e la scarpina, ironizzò. Aveva infatti notato che il viandante era il doppio di lei. La risposta abbastanza secca del reggente fu, questo non è un negozio di prova, qui si ritirano oggetti con ricevuta, chi li ritira può farlo anche per altri, non mi interessa, ciò che è vero è che la ricevuta da sola prova la consegna e autorizza il ritiro, il resto sono solo belle parole. Ho già avuto dei guai per questo con il mio titolare e non ne voglio più. La ragazza uscì innervata dall'esercizio dichiarando di voler andare fino in fondo. Un esperto della parola, dopo averla ascoltata, le disse Alla fine ce la faremmo, ma le costerà qualcosa, non so, veda lei. Fuori da ogni principio, la giovane decise di andare e di ricomperare il capo, di andarsene da lì e di ricomperare il capo. Ne trovò uno proprio identico in una bancarella. Era usato, privo di cintura, ma in ottime condizioni e di bottoni, perfettamente stabili, sembravano attaccati da poco.